Bella a tutti ragazzi con Orgasmi che sono qui con un nuovo video sulla compravendita io ne ho un po' di metodi che vi mostrerò piano piano quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace se arriviamo come nell'altro video a 500 mi piace pubblicherò un terzo metodo per la compravendita dunque in questo metodo senza perderci troppo in chiacchiere utilizzeremo uno dei tanti cambi di ruolo che ci offre questo gioco in particolare il cambio di ruolo da ala destra difensiva, ada comunque, a td terzino destro andiamo a vedere, ho 3 giocatori circa da consigliarvi per provare questo metodo adesso li andiamo subito a vedere e funziona ovviamente il guadagno va dai 200 crediti ai 400 crediti a giocatore comunque un buon guadagno considerando che siamo all'inizio del gioco quindi andiamo subito a vedere intanto quello che dovete fare è prendere queste carte in piazzamento ada a td a 150 crediti quindi a poco, cioè al minimo i giocatori sono questo qui, el mohammadi el mohammadi si chiama così lo boa e poi c'è un altro che non ho qui è aguilar che è un ada messicano si vendono tutte e tre bene il migliore è questo perché si vende subito allora cosa dovete fare? con questo qui lo dovete prendere a circa 600-650 massimo e cosa fate? lo mettete nella rosa attiva mettete anche questo nella rosa attiva questo l'ho pagato sui 600 ma comunque non lo utilizzerò adesso andate nella rosa ovviamente dovete cambiargli il ruolo lui l'abbiamo pagato 600 se non sbaglio più 150 di cambio di ruolo sono 750 crediti noi lo rivendiamo tranquillamente a 1000 quindi sono 250 di profitto quindi lo inviamo alla lista trasferimenti ne avevo trovato un altro compra ora a 500 infatti l'ho acquistato per 500 che è stata una bella offerta lo mettiamo anche lui nella rosa intanto questo me lo metto nel club dovete prenderli quindi a 150 questi qui mettete nel club mettete nel club questo lo mettiamo nella rosa rosa attiva gli cambiate il ruolo ATD questo è un buon terzino quindi per questo che si vende facilmente e lo inviate la pila scambia andate a vedere qui vabbè non posso scriverlo quindi mettiamo così andate a scrivere il suo nome El Mohamadi eccolo qui ruolo terzino destro prezzo 1000 che è quello di cui lo vendo io al solito ce n'è già uno qui ma comunque verrà venduto facilmente lo mettiamo anche noi allo stesso prezzo quindi lo piazzate così a 1000 un'ora questo volendo potremmo metterlo anche a 9.50 ma comunque lo vendiamo anche a 1000 tranquillamente mettiamo anche questo sul mercato quindi adesso direi di aspettare di venderli e poi ci riaggiorniamo dunque raga li ho venduti penso andiamo all'inizio a trasferimenti sì dunque abbiamo venduto io avevo messo in vendita tutti i giocatori che avevo quindi da provare li ho venduti tutti praticamente nel giro di un'oretta tutti El Mohamadi adesso mi sembra che il prezzo si stia anche alzando a 1100 1200 quindi volendo si possono fare anche qualche credito in più e anche questo Loboa è vendibile perché è un terzino destro colombiano o raro argento raro quindi è abbastanza vendibile anche perché è abbastanza veloce e c'è un altro giocatore non so se ve l'ho detto prima non me lo ricordo comunque è Aguilar adesso aspettate un attimo dunque Aguilar che è questo messicano la cui posizione è Ada che lo prendete a poco circa 700 crediti o qualcosa del genere vabbè 7, 750 c'è il cambio di ruolo a 150 viene 900 e lo mettete terzino destro che vi viene a questi lo mettono a 1200 comunque tipo 200 crediti comunque ce la fate è meno facile da vendere rispetto a questi altri due che vi ho vi ho proposto in questo video comunque raga il video finisce qui come vedete il metodo funziona anche alla grande ci siamo fatti con Lobo mi sembra 200 crediti con uno con uno di questi altri 200 quindi siamo 400 più questo 250 sono 650 più 350 1000 crediti con 4 giocatori 1000 crediti direi che è abbastanza buono considerando che sono dei giocatori argento anche non utilizzatissimi quindi va anche bene adesso io ho altri metodi da proporvi vi invito sempre a lasciare un bel mi piace più mi piace avremo più metodi vi farò vedere perché non ho qualcuno da mostrarvi anche altri cambi di ruolo comunque altri metodi differenti con altre carte differenti ovviamente comunque ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto e spero vi possa fruttare qualche credito vi invito a scrivermi nei commenti se lo proverete o se l'avete provato se vi è andata bene se vi è andata male ma comunque non credo ci sia grosso margine di perdita con questo metodo vi invito a lasciare un bel mi piace commentare iscrivervi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga ciao